Patrick Thaler, fino a questo momento una stagione che è andata un po' al di sotto delle le tue aspettative, vero? Ma, ho iniziato benissimo direi, con il quinto posto, poi non va l'Isère non tanto bene, ma no, dopo poco sono uscito, dopo poco forte, quindi sì, un po' così così, cioè mi ho iniziato bene, poi sono mancati i due risultati, adesso ho iniziato un nuovo anno e speriamo di far bene subito a Zagabria, poi si vedrà. Cosa ti aspetti dalla gara croata? Il pendio? Ti si addice? Sì, mi piace abbastanza, è sempre una bella gara perché c'è il pubblico che fa sempre un tifo per tutti, è una bella atmosfera e spero di sciar bene, poi quella cosa che mi interessa, il resto si vedrà poi alla fine, dipende anche dai concorrenti. Sensazioni dalla sciata prima qua sullo Zentolano? Ma, un po' di problemi fisici, però se no molto bene perché anche la pista ha preparato benissimo, quindi ottimo allenamento. Ce l'armi? Ci sta pensando? No, no, ancora, proprio presto.